Seconda parte del nostro pomeriggio dedicato ai quaderni di Arabeschi. Intanto si compiere la dieta su Facebook. Io prima ho fatto una breve presentazione della collana. Ritorno di nuovo un attimo su questo. Se riesco faccio vedere anche il sito della casa editrice dove potete acquistare i quaderni. Comunque sono disponibili anche online. Adesso dovrebbe andare. Sono disponibili anche su tutte le principali librerie online. Qui vedete i nuovi volumi che costituiscono questa collana. Io vorrei anche ringraziare Casalini Libri che ha fatto un ottimo lavoro in fase di distribuzione di questi quaderni. Ci ha permesso anche di ristampare molti di questi quaderni. Grazie al fatto che utilizziamo il sistema da stamp on demand che ci permette di lavorare su tirature limitate e poi ristampare all'occorrenza. Comunque mantenendo la qualità della stampa offset. A questo punto riprendiamo con questa seconda parte dedicata al libro di Simona Scattina, Carlo Lodovico Reggianti e i linguaggi della visione. Ringrazio Simona, ringrazio Cristina Casero che saranno qui a farmi compagnia in questa seconda parte. Ricordiamo che siamo live su Facebook nella pagina della casa editrice e credo anche nella pagina di rivista Rabeschi. Prima di lasciare loro la parola, soltanto una piccola introduzione sul libro. Questa si tratta di un'operazione un po' diversa appunto con il tentativo di riannotare lo sguardo di un critico, un linguista delle arti figurative come si definiva lui e andando al libro esce nel 2017, il sesto volume della collana dei quaderni e va a riesplorare appunto la visione di Reggianti nel campo dei linguaggi della visione con appunto l'obiettivo di riannotarlo, quello che è il panorama attuale dei visual studies. A parlarci di questo libro ci saranno con Simona Scattina che è docente di storia del teatro e dello spettacolo e drammaturgia per l'Università di Catania. Simona si è occupata prevalentemente di drammaturgia del Novecento e di drammaturgia siciliana contemporanea, secondo delle prospettive di ricerca interdisciplinari, appunto alla luce delle più recenti acquisizioni della visual culture e dei performing studies. Il suo studio ha riservato particolare attenzione alla storia del teatro come bene culturale e alle pratiche di archiviazione della memoria teatrale con un particolare riferimento all'opera dei pubi della tradizione catanese. Ha in corso degli studi sul rapporto da teatro e le arti visive e sulle trasposizioni sceniche di favole e miti. Insieme a Maria Rizzarelli e Maria Giovanna Italia ha curato il volume La Sicilia negli occhi, i libri fotografici di Sciascia dall'A al W, uscito nel 2010 per Buonanno, con Alessandro Napoli, il catalogo La guerra, io dico la guerra, metafone belliche nei cartelli della marionettistica dei fratelli Napoli, uscito per 2-3-2 nel 2015. Ha pubblicato poi per Buonanno lo studio nel 2011 Il Sergente di Marco Paolini, Epica, Memoria e Narrazione, e il volume Storie e Dipinte, i cartelli della marionettistica dei fratelli Napoli nel 2017 per Alca. E il re d'artiste di Siculorum Ginnasium, rivista pubblicata sempre nel 2-3-2, e della rivista Arabeschi. Lascio adesso la parola a Cristina Casero, invece, che è docente di storia della fotografia e di storia dell'arte contemporanea presso l'Università di Parma. I suoi studi sono concentrati sulle esperienze della cultura visuale e configurativa italiana del secondo dopoguerra e sulla scultura ottocentesca italiana, con particolare interesse per i legami della produzione visiva con le questioni politiche, sociali e civili. Tra le sue più recenti pubblicazioni ricordiamo Enrico Butti, un giovane scultore nella Milano di 1800, pubblicato nel 2013 da Franco Angeli, La scultura sociale tra il vero e l'ideale, realismo e impegno nella plastica lombarda di 1800, script ed edizioni nel 2013, e su questa stessa linea di interesse sono anche gli studi che sono, del frattempo commettiamo anche, altri partecipanti al meeting, sono anche gli altri studi su questa stessa linea di interesse che riguardano invece gli ultimi anni 40 del Novecento, dedicate all'immagine fotografica, e ha curato con Elena Di Raddo i volumi anni 70 L'arte dell'impegno, i nuovi orizzonti culturali, ideologici e sociali nell'arte italiana, uscito nel 2009 per Silvana Editoriale, e anni 70 La rivoluzione dei linguaggi dell'arte, uscito per Postmedia nel 2015. Con Michele Guerra ha curato immagini tradotte, usi e paesaggi di trasformazione di Amasis nel 2011, nel 2016 invece la monografia Paola Mattioli, lo sguardo critico di una fotografa, uscito per Postmedia Book. Nel 2020, gesti rivolta a arte, fotografia e femminismo a Milano, 1975-1980, per la Società dell'Enciclopedia delle Donne. Lascio la parola a Cristina, per parlare del libro è sicuramente più conveniente. Grazie, mi si sente attaccato tutto, sì? Ok. Dunque, intanto ringrazio voi di avermi chiamato in questa occasione, per la quale mi sono dovuta rileggere con attenzione il libro di cui Simona mi aveva omaggiato già a suo tempo, e un libro veramente di grande interesse. Simona Scatina ha studiato molto la figura di Carlo Lodovico Ragchianti. Aveva già pubblicato tre articoli negli ultimi dieci anni, adesso mi sembra partire dal 2008, ma non è che so a memoria la bibliografia della Simona. Però, insomma, si vede e si sente che questo libro è un'ennesima riflessione, un ritorno su un argomento che all'autrice sta evidentemente particolarmente a cuore. E devo dire, sebbene io non dico non sia un'esperta come Simona, ma non sia un'esperta to cure di Ragchianti, è un personaggio con il quale comunque i conti bisogna farli. Io i conti ce li ho fatti in quanto storica dell'arte, quindi con un taglio preciso e particolare che però ben si concilia con le riflessioni che Simona ha approfondito nel libro. Allora, Ragchianti anzitutto, e qua ci tengo a dirlo, spero di non andare fuori tema, ma mi prendo i miei minuti anche ai limiti per farlo, è una figura che va rivalutata proprio anzitutto per la sua capacità di proporre un progetto di politica culturale. e francamente oggi ci viene da dire avercene, no? Cioè questa capacità, Ragchianti ha fatto anche politica in senso stretto, ma è stato poi capace, credo, ma Simona correggimi se sbaglio, dal 48, dalla fine della seconda guerra, di dedicare tutto questo suo impegno, questo engagement politico, direttamente sul piano culturale. Il che vuol dire muoversi con un progetto preciso e con un ideale preciso, che chiaramente ricade sulla sua posizione anche di critico d'arte. Intanto possiamo ricordare, e questo sono sicura che vorrà farlo più approfonditamente Simona, la figura della moglie, che soprattutto sopra questo aspetto, Licia Collobi, ha collaborato tantissimo a portare a termine alcune imprese. Penso alle riviste, critica d'arte fondata nel 35, e se le arte nel 52, riviste che sono uno strumento fondamentale, no, per un critico d'arte ancora oggi. Penso alle tante mostre che ha curato, penso agli spazi come la strozzina a Firenze, che ha appieno utilizzato. Penso anche a quel nucleo, a quella base, quel museo del Novecento di Firenze, che è raggianti, è riuscito a mettere insieme. Ecco, tutto questo carico, che è un carico etico, e che fa di Raghiante un vero intellettuale, risulta evidentissimo anche nel suo rapporto con le nuove tecnologie, che poi fa ridere ormai nuove, neanche un po', ma insomma, con il cinema, e anche con la televisione. A me ha sempre molto colpito il fatto che Raghiante abbia scritto nel 55 una riflessione sulla televisione. Nel 55 la televisione aveva, credo da un anno, iniziato a fare abitualmente, cioè diciamo, i suoi programmi normali, cioè uscendo dalla fase sperimentale. e quindi è chiaro che stiamo parlando di una persona capace di guardare avanti, di guardare molto avanti. E questa sua capacità, non so se abbia avuto di fatto degli eredi veri, ma poi magari ne parliamo con Simona. Certo è che il suo modo di guardare al cinema e alla televisione è un modo che colpisce, a parer mio, per il grande rispetto che Raghiante ha nei confronti di queste forme, che non considera delle forme di divulgazione nel senso più banale del termine, ma che considera delle espressioni che si possono ben coniugare con l'esercizio dell'attività critica. Ecco, anche questo modo di intendere la divulgazione, cioè la possibilità di raggiungere il maggior numero possibile di persone, con delle riflessioni che però mantengono intatto tutto lo spessore di una vera e propria attività critica, cioè usare il cinema, cito, per fare della critica d'arte esercitata attraverso il linguaggio cinematografico, non è semplicemente usare questi mezzi per fare della divulgazione, ma è conoscerli, comprenderli a fondo, capirne appieno le potenzialità e coniugare la conoscenza di quelle potenzialità con il proprio percorso di critico. Un personaggio di tale spessore è chiaramente un personaggio complesso, quindi io voglio fare i complimenti a Simona, se non altro per il coraggio di essersi voluta, oltretutto ripetutamente, misurare, non mi è bastato qualche volta, proprio ho insistito, con un personaggio del genere, perché fa paura, davvero, a me mette soggezione, mi fa paura, paura nel senso appunto di soggezione. Dal mio punto di vista poi, trovo particolarmente interessante, e si lega sempre a questo modo di intendere la propria posizione, questo concetto di arte come forma, come linguaggio, questo rifiuto delle arti belle, che è chiaro nel 2020, c'è da sperare, ci trovi tutti d'accordo e tutti consapevoli, ma per quanto concerne, per esempio, la mia formazione, che risale a un po' di anni fa, perché si è fatta una certa, non è così poi stato scontato negli ultimi anni, mentre invece questa sua posizione, che sicuramente anticipa i visual studies, che hanno poi avuto degli sviluppi grandissimi, questo anche Simona lo precisa negli ultimi decenni, ma ha un risvolto importantissimo, secondo me, proprio all'interno della storia dell'arte, per quel riportare il prodotto artistico ad essere sostanzialmente un prodotto umano, no? cioè uno dei tanti prodotti umani, per quel mettere, quell'apertura che gli consente di studiare tutta la comunicazione visiva, come dimostrano chiaramente Crito Film, superando quindi quella tradizionale dialettica crociana tra prosa e poesia. Raghianti è anche un uomo di grandissima cultura, è un teorico, credo, cito un po' a memoria, ma credo che Simona nel libro precisi, come per esempio l'approccio al cinema è un approccio molto teorico, no? Da parte di Raghianti. Ma sicuramente questa teoria si coniuga con un'attenzione alla lettura delle opere e al linguaggio delle opere veramente incredibile. Cioè questa necessità di misurare il linguaggio con cui si esprime la critica che nel libro è stato affrontato e credo ripreso anche dall'articolo precedentemente scritto proprio in relazione ai termini verbali, alle scelte lessicali, a ricorrere di alcune scelte che non ha diciamo motivazioni estetizzanti, ma motivazioni tutte interne al suo discorso e alla sua concezione dell'arte. Mi viene da dire ma non per diminuire dell'arte senza la maiuscola finalmente, no? Ma dell'arte come una espressione linguistica. E questo discorso appunto lo porta a confrontarsi anche con delle forme di comunicazione visiva che abitualmente non erano messe strettamente in relazione con l'opera d'arte come accade appunto nei crito film e qui si inventa anche la definizione un po' ma è non bellissima diciamo però interessante che sono un esperimento a parer mio veramente interessante perché cercare di tradurre un linguaggio in un altro è appunto come diceva Salvo proprio un discorso da linguista no? Bisogna però conoscere bene tutte e due le lingue quando si fa una traduzione non basta conoscere e questo aspetto è certamente molto approfondito nel libro di Simona tutta la parte centrale riguarda questi lavori e per non monologare vorrei magari condividere qualche riflessione con Simona intanto le riflessioni che ho fatto ma mi incuriosisce sapere visto quello che io penso di questo di questo argomento Simona che ha una formazione anche diversa dalla mia com'è che si è appassionata a Raghianti già dagli anni duemila veramente appassionata non lo molla più non lo so sarà il leitmotiv della sua vita e se essendo magari un po' più giovane oppure anche vedendolo da una prospettiva di fondo che è diversa dalla mia ritiene che ci sia ancora attiva e pulsante ma concretamente agita la sua eredità nel 2020 grazie Cristina non so se Salvo deve passarmi ufficialmente la parola oppure se la posso prendere io così con un colpo di teatro mi sentite intanto scusa mi salvo però visto che mi ha subito chiamato in causa mi sono mi sono permessa intanto pre rugo qualche minuto per dei doverosi ringraziamenti ringrazio Cristina per una promessa mantenuta un anno fa ci siamo visti a Catania in occasione di una giornata di studio organizzata proprio dalla rivista Rabeschi le avevo prospettato la possibilità perché mi sarebbe tanto piaciuto poter parlare con lei di raggianti e quindi questa promessa è stata mantenuta in forma un po' diversa rispetto a come magari l'avevamo immaginata però siamo qui e quindi la ringrazio per essersi resa subito disponibile ringrazio le direttrici di Arabeschi Maria Rizzarelli e Stefania Rimini che con coraggio e determinazione nel 2012 hanno riunito giovani studiose e giovani studiosi con l'intento di condividere un'insaziabile attenzione alla ricerca che poi era anche un po' il motore che spingeva raggianti in tante delle sue iniziative ringrazio salvo il nostro editore il nostro eh Angelo Custoda nel momento in cui vogliamo concretizzare su carta i nostri pensieri e i nostri studi per aver creato appunto eh una costola diciamo di Arabeschi che i quaderni che sono i quaderni e per accompagnarci eh anche nella realizzazione del dei numeri della della rivista e poi la fondazione Raggianti eh Giuliana Baldocchi Angelica Giorgi e Francesca Pozzi che hanno accompagnato ormai come dice giustamente Cristina da lontano anno duemila i miei i miei studi sono stati sempre di supporto per tutte le mie ricerche e ehm rispondo e vengo alla risposta alla prima risposta della riflessione della domanda che mi piaceva Cristina come sono arrivata come sono approdata a Raggianti in realtà l'inizio di tutto fu una richiesta di tesi eh la disciplina all'epoca era storia e critica del cinema quello che poi diventò il mio maestro aveva entrambi gli insegnamenti che poi per me sono stati fondamentali nel mio percorso di studi eh storia del teatro e dello spettacolo materia che poi ho da lui ereditato in qualche modo è storia e critica del cinema e quando andrei a chiedere a lui l'argomento perché volevo far con lui necessariamente una tesi di laurea lui mi fece subito questo nome che ehm sentivo per la prima volta e ovviamente già lo vedevo come un nome impegnativo che sarebbe stato impegnativo per per i miei studi per quello che sarebbe stato il compimento appunto del mio percorso con la tesi di laurea eh ricordo ancora oggi le serate passate a correggere i file del mio computer che si ostinava a correggere continuamente il cognome di raggianti in raggianti e ricordo quello che è già c'è a cui accennava Cristina c'è lo stupore nel vedere la quantità di interessi che quest'uomo seguiva e che seguiva anche tutti bene come se per lui la cultura accennava e ne parlava anche Cristina prima fosse un modo di vivere fosse l'aria che respirava e alla generazione di studiosi e qui mi includo che anagraficamente non hanno avuto la possibilità di conoscere di persone raggianti e quindi noto il grande spirito di curiosità all'apertura culturale e mentale affiancata anche all'attitudine per la trasmissione didattica che aveva lo storico dell'arte lucchese un'espressione molto bella che ho intercettato e che riguarda lui è un magnete culturale nazionale e internazionale se si pensa anche alle grandi mostre internazionali che per esempio riuscì a portare in Italia una su tutte quella su Wright o sulle Corbusier aveva appunto questa capacità didattica lo raccontano i suoi allievi gli studiosi che hanno avuto la fortuna di frequentare le sue lezioni di far parte comunque delle sue ricerche che si accompagnava a una produzione scientifica fondata non esclusivamente sulla saggistica stampa ma anche sull'utilizzo come accennava Cristina prima lungamente meditato e sperimentato senza precedenti tra i suoi contemporanei ricordiamoci che appunto giovanissimo il primo contributo che Ragianti scrive le prime sperimentazioni sono degli anni 30 23 anni quindi molto giovane appunto dell'immagine fotografica e filmica come strumento privilegiato per la conoscenza e l'interpretazione critica della storia dell'arte un orizzonte appunto che negli studi poi ragiantiani si snoda dall'arte preistorica arrivando fino all'arte contemporanea passando anche per le cosiddette arti minori cui Ragianti poneva sempre una certa attenzione e includendo il cinema come si accennava poc'anzi come espressione integrante della storia della visione siamo negli anni 30 lo dicevo prima nella piena maturità del cinema sonoro e in una prima stabilizzazione dei codici scusate del cinema muto e di una prima stabilizzazione di quelli che poi saranno appunto i codici del cinema sonoro quindi abbiamo un Radianti giovanissimo che mostra questa totale apertura nei confronti di fotografia e cinema e il cui concreto e convinto utilizzo derivava da un'idea fondata sull'esperienza che tali strumenti nelle mani di uno studioso d'arte potessero tradursi essi stessi in atto critico in forma di pensiero solidamente strutturato potenzialmente fruibili da un più vasto pubblico rispetto a quello che era il campo della critica verbale ovviamente è un lascito importante prevalentemente visivo lui stesso si definiva visibilista puro rubando un po' un'espressione delle teorie del teorico Fiedler a cui lui fa riferimento e appunto da una parte abbiamo la saggistica le imprese editoriali la cui caratteristica è proprio la ricchezza nella scelta del montaggio dell'apparato fotografico e grafico ne parlavamo anche poc'anzi accennando appunto al lavoro che Maria Pizzarelli col suo Moreguer ha fatto quanto siano importanti le immagini accanto al al testo e per Aghianti questo era fondamentale e tutt'oggi nel bianco e nero che è più resistente rispetto ai photocolor che magari oggi sarebbero risultati più sbiaditi impegna e stimola quella che è l'occhio e la mente del lettore dall'altro lo cinava prima Cristina i prodotti che poi lui realizza cioè dei documentari d'arte dei film critici o meglio dei film di critica d'arte come lui amava definirli che conia appunto conia addirittura un termine per identificarli che sono i critofilm sono 21 documentari appunto di critica d'arte esercitata mediante il linguaggio cinematografico critofilme diversissimi come argomenti che spaziano dalla pittura che è un po' il luogo diciamo privilegiato un ambito privilegiato che era gli antiscei all'urbanistica alle arti minori come dicevo prima con la voglia di sperimentare tecniche e supporti nuovi dal tecnico color piuttosto che le vedute aeree fatte con l'elicottero e la stagione dei critofilm poi si interrompe nel 1964 con l'ultimo critofilm che lui realizza dedicato a Michelangelo per te e mi rilascia un altro input che mi ha dato prima Cristina perché Raghianti è deluso in quell'anno dall'avanzare di prodotti documentaristici di reportaggi più generici adatti per la televisione e appunto questo lo indurrà a spostare da quel momento in poi la sua attenzione di ricerca sulle possibilità dei procedimenti cibernetici applicati alla ricostruzione proprio del processo creativo ma appunto lo accennava prima Cristina Raghianti sulla potenzialità della televisione crede moltissimo tanto che nel 1955 realizza quel contributo a cui accennava prima che è la televisione come fatto artistico quindi il media è visto come uno strumento di forte impatto comunicativo atto a diffondere a un largo pubblico la conoscenza dei linguaggi visivi lo stesso Raghianti aveva progettato dei documentari per la televisione che non sono stati mai realizzati e in archivio nel 2005 sono state trovate anche due lezioni che Raghianti aveva girato per la RAI nei corridoi di Palazzo Strozzi dove appunto parlando dei maestri del novecento svolge una lezione come se fosse in presenza dei suoi allievi capisci come è attuale in questo momento un discorso del genere esatto infatti in queste giornate in cui siamo sempre tutti in piattaforma siamo sempre a discutere di quanto sia di questo Netflix della cultura e ho sempre pensato alle parole anzi sono andata a rileggermi ancora non sapevo che ci sarebbe stata questa presentazione però sono andata a rileggermi proprio quello scritto e ho notato questo ed è quello che ogni volta mi stupisce nel momento in cui ritorno su raggianti sono recidiva lo so lo confesso però spesso e volentieri ho aperto dei cassettini nel corso di questi anni dei miei studi e ho sempre trovato utile un richiamo a raggianti un riferimento che poi in qualche maniera è stato metabolizzato è stato rielaborato quindi non necessariamente citato ma questo è veramente una costante come se da quel momento lui non mi avesse mai lasciato le mie ricerche comunque tendessero sempre a uno sguardo quello sguardo che per lui era tanto importante quel saper vedere che Matteo Marangoni comunque in qualche maniera gli fa gli fa male lo fa appassionare su quella strada lì appunto è stato un po' importante anche per me tu mi chiedevi poi dell'oggi di quanto poi oggi un discorso del genere ma già questo che ci siamo dette volendo potrebbe aprire nuovi scenari oggi lo sappiamo il legame tra arti visiva e grande schermo non è una novità pensiamo alle biografie sugli artisti quelle di Marina Abramovic pensiamo ai il focus sulle opere d'arte pensiamo a un prodotto come Loving Vincent del duemiladiciassette questo lungometraggio interamente dipinto una creatività poi affine a quella raggiantiana la troviamo grazie a un'interessante analisi che la professoressa Sandra Lischi ha fatto su Alain Joubert parlando di crito video quindi torniamo un po' a questo termine crito video lui realizza una documentarista francese dei documentari che rispetto a Ragianti hanno una piccola differenza escono fuori dalla cornice cosa che Ragianti invece non prevedeva che si potesse fare lui rimaneva sempre all'interno della cornice che sono appunto le palettes cioè le tavolozze quindi ci sono degli eredi che stanno continuando che continuano in qualche maniera consapevole o meno una ricerca simile a quella che Ragianti ha portato avanti con i suoi crito film ovviamente possiamo soltanto immaginare quello che Ragianti avrebbe pensato di prodotti come l'analisi che Bob Wilson fa su Cezanne piuttosto che Studio Azzurro che rilegge La primavera di Botticelli o ancora Anagor che affronta l'opera di Giorgione quindi chissà che cosa avrebbe avrebbe scritto come però sicuramente il prodotto dei crito film poi fra le altre cose sono documentari difficilissimi da trovare in giro sono consultabili presso appunto la fondazione Ragianti però sono lì disponibili e quindi visionabili sono da una parte la testimonianza di opere che magari anche negli anni o di città o di manufatti che negli anni si sono modificati in qualche maniera e dall'altra sono documenti di un atteggiamento sicuramente verso l'arte che si è tradotto come diceva anche tu prima in scelte filmiche musicali e verbali e anche per essi vale quello che Ronald Barth dice delle fotografie sono testimonianze di essere stato là non solo dell'oggetto ripreso ma anche del soggetto della ripresa l'essere stato là di un soggetto il cui tempo nel dispositivo della visione filmica ridiventa il nostro tempo non so se è se posso aggiungere una cosa la parola tempo è la parola magica perché quello che io credo sia un grandissimo contributo ripeto io parlo sempre della storica dell'arte quindi siamo un pochettino complementari in questo però ecco attraverso il critofilm ciò che emerge è il suo punto di vista sull'importanza del processo creativo e del procedimento artistico che tu peraltro hai accolto anche proprio quando studiando il lessico hai notato il ricorrere della parola farsi che se ci pensiamo bene è poi un aspetto che diventa fondamentale per l'arte contemporanea l'innovazione vera è l'arte che diventa processuale non è più un oggetto ma è un processo ma dall'altro anche una cosa che si riallaccia proprio a quell'etica di cui parlavo all'inizio che mi colpisce sempre molto è l'idea di ampliare attraverso il critofilm il tempo della percezione il tempo della visione cioè il tempo del fruitore una fruizione che ha un suo tempo percettivo bene questa importanza al ruolo del fruitore in maniera così consapevole e articolata è anch'essa un segno di diciamo la manifestazione di un pensare l'arte quasi come un dovere sociale dell'arte e della cultura tutta cioè non considerare l'opera in se stessa ma nel suo darsi anche ai tempi del fruitore e allora mi piaceva forse chiederti o chiederti insomma sentire una tua riflessione su un aspetto che io invece conosco confesso molto poco che è il teatro il rapporto di raggiunti con il teatro che proprio su questa idea di tempo e di tempo percettivo mi sembra forse sia un aspetto fondamentale hai ragione tra le altre cose negli ultimi anni grazie per farmi ritornare sulla retta via perché poi è quella che ovviamente adesso caratterizza di più i miei studi cioè l'ambito delle discipline appunto teatrali dello spettacolo negli ultimi anni sicuramente la ricerca artistica ha fatto concluire nella scena teatrale i portati delle arti tutte dalla poesia al cinema dalla scultura alla grafica dalla danza all'architettura ora Raghianti individuava siamo allora Raghianti inizia con un primo volume che è cinema arte figurativa ed è appunto quello che aprirà la strada alle sue teorie e ai suoi studi più importanti e lo renderà anche noto al grande pubblico e successivamente tornerà sul volume dedicato al cinema includendolo in una sorta di trittico dal titolo appunto arti della visione in cui il secondo volume è proprio dedicato allo spettacolo è dedicato proprio al teatro e in questo volume Raghianti individua nell'elemento visivo il minimo comun denominatore che consentiva di riunire appunto nello stesso orizzonte le arti figurative le arti dello spettacolo e il cinema parla di teatro come visione un teatro che trova le sue radici nello spettacolo ottico che si afferma nell'ottocento il primo spettacolo ottico dell'ottocento siamo nel 1882 di lì a poco poi sarebbe nato appunto il cinema ed è proprio da questo tipo di teatro che è puro trionfo della spettacolarità ed è visivo sulla dimensione letterario-drammaturgica che trae origine per Raghianti lo spettacolo cinematografico e quindi come se nascesse appunto da lì e nei suoi contributi Raghianti passa e rassegna coloro i quali hanno saputo tradurre l'opera teatrale in forma visiva Gordon Craig Appia Jacques Coteau fino ad arrivare alla fotodinamica di Bragaglia in cui ritrova i concetti proprio di movimento tempo e processo che sono così importanti come accennavi prima tu per la sua critica e ovviamente come detto anche qui non sappiamo che cosa avrebbe pensato per esempio di Wilson e del teatro immagine che ha permeato poi l'attività di numerosi artisti come Roberto Lepage o in Italia Mario Ricci o Basilico o gruppi come la Gaia Scienza di Barberio Corsetti o Falso Movimento di Martone sebbene poi la stagione del teatro immagini si saurisca intorno agli anni settanta oggi il tema però del teatro come sguardo e la ricerca di particolari dispositivi della visione è una delle costanti per esempio della ricerca di gruppi come Motus o Fanny Alexander che lavorano come avrebbe detto Raghianti quindi duggono espressioni attraverso un seguito di visioni staccate direttamente dalla superficie di una tela dipinta o di un telo cinematografico qui consentimi di aprire un attimo una parentesi e poi voglio venire su un altro aspetto che hai accennato perché sul discorso dell'opera e dell'arte come essere vivente e quindi il discorso della compresenza che è importante però ne approfitto per consigliare a chi sta seguendo in questo momento questa presentazione di sfogliare virtualmente le pagine della rivista Rabeschi perché è proprio l'ultimo numero il 15 è dedicato dedica il suo incontro con Fanny Alexander e quindi potrete vedere sia la video intervista che i ricchi e stimolanti contributi che accompagnano ovviamente questa sezione chiusa parentesi promozionale di altro tipo dicevo appunto l'insegnamento per tornare a Ragianti più alto lo ritroviamo quando arriva a definire il teatro così come il cinema la fotografia l'opera d'arte in generale essere vivente tanto da esigere proprio un dialogo quello che dicevi tu con l'altro essere vivente anche qui si aprirebbero mille scenari legati a tutte le polemiche e i dibattiti che si sono avuti in questi giorni ovviamente l'altro essere vivente diventa per Ragianti l'interlocutore privilegiato che è in grado di completare il circolo creativo comunicativo che per Ragianti era fondamentale anche in questo caso secondo me ha avuto il merito di aver posto la necessità di riflettere sul rapporto tra teatro e arti figurative che è una partita che ancora si gioca e che forse è destinata a non avere mai una fine sarà sempre un discorso aperto ma a partire veramente dalle prime scene dipinte da Sofocle di cui ci racconta Aristotele nella sua poetica ovviamente tutto quello che nel teatro contemporaneo sta avvenendo tu all'inizio mi hai fatto una cosa molto gradita ma lo diciamo ne avevamo un po' parlato perché è accennato anche alla figura di Licia poi tra le altre cose tu appunto da storica dell'arte quindi mi fa doppiamente piacere e io mi permetto di dire proprio tu su due parole perché ieri abbiamo ricordato l'anniversario della scomparsa di una di un'altra grande donna attrice e autrice che è Franca Rame e ricordo che lei di Fo diceva Dario è un monumento io sono il basamento e quando ho intercettato quando ho scritto il contributo che chiude il volume non avevo ancora intercettato questa battuta di Franca però ho rivisto molto dai racconti e le ringrazio che è Francesco e Rosetta Raghianti due dei quattro figli di Carlo Ludovico di Licia appunto mi hanno raccontato e confidato che Licia era il basamento di Raghianti ma un basamento importante perché era la più preziosa collaboratrice di Carlo Ludovico Raghianti era una sensibile apprezzata storica dell'arte e con lei andrebbe ricordato forse un po' di più il peso che le donne storiche dell'arte esercitarono nel clima culturale nel periodo tra le due guerre per esempio penso a Margherita Sarfatti ma se ne potrebbero citare molte altre che operarono in quel periodo che a volte vengono ad essere ricordate più per altri episodi magari anche personali per il legame con Mussolini piuttosto che invece per le qualità di studiose che potevano avere e l'azione di Licia è un'azione svolta molto in silenzio per oltre 40 anni mano nella mano sempre nella stessa linea di Carlo Ludovico Elsa De Giorgi che era l'amica storica della coppia diceva che il rapporto tra i due era la sintesi perfetta di un'unione tra due scapoli Licia invece amava dire che avevano un rapporto di curiosa indipendenza però è vero come dicevi tu sappiamo dalle carte private che la famiglia mi ha mi ha fatto un po' sdirciare che Licia chiudeva tutti i numeri di Selearte 13 anni di Selearte li aveva quasi lei sulle spalle concordava il Menabò con Carlo Ludovico però poi di fatto portava lei il numero a chiusura aveva una grandissima capacità di leggere le lingue lei era triestina quindi conosceva perfettamente per esempio il tedesco e quindi tradurrà molti degli studi dei teorici stranieri appunto li potrà tradurre per l'Italia sappiamo poi quanto è stato importante il sì che ha detto appunto a Raghianti quando questo ha comunicato a lei e alla famiglia che avrebbe voluto donare tutto il loro patrimonio di libri e di fotografie a un centro studi per appunto la creazione di quella che poi sarebbe stata la fondazione un patrimonio ovviamente immenso che tutt'oggi è disponibile che ha reso la fondazione allora intitolata un centro specialistico di rilievo internazionale nel campo della storia dell'arte e che ancora una volta ma questa sera lo abbiamo detto più di una volta testimonia tutta la carica e la fecondità del loro sguardo e della loro azione quindi mi piace chiudere perché credo poi forse ci siamo dilungate non ho neanche l'orologio non ho guardato il tempo però chiudere il discorso al plurale non solo su Carlo Lodovico Raghianti qua ci includo anche anche Licia grazie benissimo concordo prendo la parola io un attimo prima di andare di nuovo da Giovanna sì perché temi che io te la possa togliere questo no no in realtà no la prendo prima di andare da Giovanna dicevo e vi invito tutti i partecipanti a fare delle domande colora ne avessero soltanto per dire che sono io che devo ringraziare te per aver scelto di pubblicare con noi il tuo libro e ringrazio anche Cristina per tutti gli stimoli che ci stai dando questo pomeriggio non so se Giovanna è già in video sì eccola se ci sono commenti domande ovviamente grazie anche a te per quello che stai facendo grazie a voi per l'accompagnia di questo pomeriggio e anche per l'autogestione degli interventi comunque non sono arrivati i commenti da Facebook però rinnovo l'invito per chi volesse farli e non so se ci sono commenti su Zoom io poi ho una piccola osservazione perché in realtà è anticipato anche una mia domanda però intanto lasciamo la parola e spazio se c'è qualcuno su Zoom no attualmente no magari aspettiamo un po' perché vabbè li abbiamo sfiancati su no io in realtà volevo chiederti la domanda che intanto cioè ci avete restituito il percorso di Raghiandi che già parla parla da secco però volevo chiederti qual era l'eredità poi di Raghiandi ma l'hai anche anticipata parlando di Bob Wilson in qualche modo comunque delle forme anche diverse in realtà che però si riallacciano un po' alla sua lezione la sua capacità di restituire le opere appropriandosi di più le opere figurative appropriandosi più linguaggi però forse lancio così una suggestione un'altra lezione un'altra eredità può essere rivolta più all'ambito della ricerca non nella capacità di Raghiandi di far coniugare ricerca quindi lavoro in accademia ma anche dialogo con le istituzioni capacità di coinvolgimento della società quindi forse questo è quello che dobbiamo portarci anche da questo incontro di oggi oltre che la necessità di rileggere in modo più approfondito il tuo libro grazie salvo posso per questa tua suggestione ma è vero in realtà come diceva Cristina questo è un piccolo sguardo su Raghianti perché ci sarebbe quello che lo lega il discorso sul patrimonio culturale la battaglia politica che poi lui farà anche per la tutela e la difesa del nostro patrimonio Raghianti sarà uno dei primi che dopo l'alluvione di Firenze percorrerà il famoso corridoio vasariano chiedendo aiuto agli italiani perché bisognava salvare le opere d'arte e poi da lì ovviamente si batterà per un discorso legato al restauro e Raghianti istituirà delle discipline importanti storie critiche del cinema arriva grazie alla sua volontà perché proprio lo richiede esplicitamente così come la disciplina della museologia che appunto è stata da lui poi fondata quindi è vero è un magistero sempre ancora vivo e la citazione di Maria se non mi sbaglio era appunto tratta da Hitchcock io parlo di effetto Raghianti per ricollegarci a quello che ci siamo detti durante il primo blocco cioè questo effetto propulsivo questo sguardo proiettato veramente verso il futuro con questa voglia del fare che è uno dei lemmi Cristina accennava al primo contributo che io ho scritto forse su Raghianti che poi è una costola della mia tesi di dottorato perché io poi dopo la tesi proprio perché sono recidiva dopo la tesi di laurea tornai su Raghianti per il dottorato che era un dottorato in lessicografia semantica e quindi si pensò di creare questo index verborum dei termini maggiormente utilizzati da Raghianti e sicuramente a parte il neologismo di Crito Film ma la parola fare è una parola fondamentale forse questo è il suo insegnamento questa voglia di agire di capacità di andare oltre di appunto il senso di questa azione che per lui era molto importante che forse è la sua più grande reddita e quella che ha trasmesso anche ai tanti studiosi che oggi fortunatamente popolano e continuano con questa azione anche di discepolato a portare avanti il suo messaggio e la sua più grande eredità e poi ovviamente la fondazione fa una parte grandissima perché continua a organizzare mostre continua a diffondere la cultura e continua a ricordare ovviamente le personalità di Carlo Ludovico Raghianti e di Licia Collobi Raghianti prendo un attimo la parola sì Laura Mariani ci chiede di qualche esempio di documentario di Raghianti sì intanto vabbè fatti portavoce per un abbraccio forte a Laura Mariani il primo che Raghianti gira in maniera un po' forse più rudimentale sulla deposizione di Raffaello quindi sulla Palabagioni di Raffaello sulla pittura continuerà poi per esempio con la canugna di Botticelli fra le altre cose oggi intercettando il catalogo Oz di Fania Alexander ho ritrovato proprio che una delle voci di questa sorta di atlante che loro hanno composto grazie anche ai contributi di altri studiosi contiene proprio l'immagine della calugna di Botticelli sotto la voce menzogna e poi c'è un documentario bellissimo dedicato alla sua città che è Lucca città comunale dicevamo prima quelli invece dedicati alle arti minori urne etrusche di Volterra piuttosto che quelli legati alle monete del Tardo Impero quindi veramente sono l'ultimo è bellissimo su Michelangelo quindi come dicevamo si spazia veramente su campi diversissimi che vanno dalla pittura alle arti minori all'urbanistica e a quello che ovviamente sono anche e la rese lo sguardo che sulle città si poteva avere la differenza è qui diciamo che forse non ho Longhiani in ascolto rispetto a quello che Longhi ed altri stavano facendo in quello stesso periodo è che mentre questi storici dell'arte appunto lavoravano sulle fotografie sulle immagini quindi sui duplicati Raghianti invece si sperimentava sul campo quindi saliva lui stesso non so se Salva ha condiviso prima alcune delle foto che sono presenti all'interno del libro c'è Raghianti appunto appoggiato questa è una foto un po' posata ovviamente però vicino all'elicottero ma perché lui stesso sorvola appunto la città per poter fare le riprese c'è quella sulla Certosa di di Pavia quindi sono veramente tanti e sono da rivedere oggi mi è tornata un po' la voglia di visto che dal giorno tre ci potremmo muovere di perché no eccolo qui di tornare in fondazione e rivedere il clito film perché credo che poi di volta in volta qua in Collicia sia veramente un'esperienza diversa fra le altre cose appunto come vedete era proprio lui stesso che si sperimentava che lavorava prima facendo dei schemi grafici sulle opere che poi avrebbe ripreso e poi ovviamente interveniva attraverso questo linguaggio critico che poi poteva applicare all'occhio della macchina da presa per me ancora la forza proprio la potenza straordinaria di di Raghianti la sua attualità un messaggio che veramente se noi guardiamo quei clito film non ci sembra di guardare delle cose che arrivano al massimo fino al 64 ma sembrano dei prodotti della contemporaneità riprendo un attimo la parola però è bellissimo questo scambio Laura Mariani comunque chiede un chiarimento nella differenza fra abbassamento e monumento e poi arrivano comunque dei complimenti in generale che poi lascio il tempo a te di andare a riprendere grazie vabbè sì in realtà questa appunto è un'espressione di Franca Franca diceva che se Dario era la statua principale lei era comunque la base su cui questa statua poggiava quindi lo utilizzava secondo questa accezione fra le altre cose poi con Laura abbiamo avuto modo di confrontarci su Franca in occasione della scorsa edizione di Fascina in cui si parlava della diva che scrive la divagrafia anche qui neologismo coniato da Maria Rizzarelli e in quel caso appunto anche lì affrontavo un po' la figura di Franca che è sempre vissuto se vogliamo un po' per sua scelta un po' perché cedeva il passo lei è abituata da fanciulla che nasce all'interno di una famiglia di comici dell'arte a vedere il ruolo magari della donna un po' più defilato rispetto a quello del paterfamilia e quindi la stessa cosa in un certo senso poi Laura li conosceva benissimo e quindi saprà anche dei retroscere che magari io non conosco però sì questa espressione mi ha sempre fatto pensare che così come Dario quando vince il Nobel dirà che appunto deve tutto a Franca Franca dall'altra rispondeva che effettivamente era importante per lui perché era la base su cui Dario si appoggiava e si appoggiava anche lì per la stesura degli spettacoli perché Franca rifiniva sempre gli ultimi aspetti degli spettacoli prima di andare in scena o le repliche successive e quindi l'intervento di Franca era fondamentale così come poi l'intervento di Licia sarà fondamentale determinante perché forse Ragianti non avrebbe potuto fare le tante cose che ha fatto se in un certo momento della sua vita non avessi incontrato una donna capace tenace come è stata Licia grazie Simona la parola a salvo perché credo ci sia qualche domanda ci sono delle domande anche sul zoom Giuseppe Sanfratello ti chiede Simona qual è il rapporto di Ragianti con la musica e cioè qual è stata la presenza della musica se c'è nei suoi credo film e poi Laura Permice ti ringrazia per la tua capacità di far dialogare il magistero di Ragianti con le pratiche artistiche del presente e ti chiede se questo effetto Ragianti si riflette soprattutto nell'immagine elettronica che tutto accoglie e rilancia e se la utilizza nel videoteatro e allora rispondo per galanteria prima Laura non per quindi non so se in ordine del tempo è arrivato l'uno o l'altro grazie vabbè Laura per il tuo commento per me è sempre gradito e tu lo sai il valore che do alle tue parole quindi ti ringrazio e sì sicuramente l'immagine elettronica cioè Ragianti stava nell'ultima fase poi della sua carriera sperimentando proprio l'applicazione nel campo delle arti figurative della storia dell'arte proprio dell'immagine elettronica e del calcolatore elettronico lo applica al momento arriva ad applicarlo soltanto per quanto riguarda gli studi di architettura quindi per riprodurre alcuni dati e decodificarli anche lì non so poi che cosa volesse farci in realtà con questi con questi dati non ci arriva però è ovvio che è molto del videoteatro sebbene non citi o i studiosi che si occupano di videoteatro sebbene non citino Ragianti ma per esempio Anna Maria Monteverdi lo cita e molti altri anche Pinotti e Somaini citano Ragianti e ovviamente c'è un riflesso delle parole degli studi o della diciamo della strada che lui ha aperto per quanto riguarda invece il ruolo della musica risponde Giuseppe che ringrazio per essere stato con noi sia nella prima che nella seconda parte e la musica era importante era una musica non era un diciamo un commento distaccato quindi musicale distaccato ovviamente dal dal critofilm ma era una musica che Ragianti studiava che a volte faceva comporre appositamente per accompagnare i suoi i suoi critofilm quindi avevano la stessa importanza l'immagine filmica la musica la partitura musicale e il commento a margine che lo stesso appunto Ragianti poi registrava successivamente o che affidava ad altre voci quindi come accennavo prima i tre aspetti erano complementari ed erano importanti tutte allo stesso livello tanto che appunto alcune volte la musica sottolinea alcuni passaggi e si sostituisce alla parola al commento critico perché in quel momento rafforza ancora di più l'immagine la potenza dell'immagine stessa quindi serve ad accentuare ancora di più alcuni passaggi non so se sono stata io pensavo ad averli schiancato invece no vi ringrazio evidentemente no se Cristina vuole aggiungere qualcosa lasciamo la parola a lei o altrimenti possiamo anche dire chiudere velocissimamente mi complimento intanto con la vostra linea editoriale che accoglie sempre libri bellissimi che è sempre un piacere leggere lo dico sinceramente non lo dico e anche con Simona a parte la battuta sulla sua sul suo essere recidita credo che questo affondo continuo anche a distanza di tempo perché diventiamo grandi e come dicevi tu che ti piacerebbe rivedere Crito Film ogni volta che si torna a riflettere su qualche cosa su un oggetto su un pensiero lo si vede in maniera nuova quindi mi complimento veramente con tutti voi per il lavoro che state portando avanti ed è stato un piacere essere qui con voi quindi non dico niente vi ringrazio e basta grazie Cristina vi ringrazio veramente per tutti gli spunti che ci avete dato ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito Simona ringrazio anche te ringrazio Maria e Giulia Colli che hanno animato la prima parte di queste dirette vi ricordo che i quaderni arabeschi sono disponibili appunto su 232.com una collana che attualmente è costituita da nove volumi non ho detto prima che è divisa in tre macro sezioni atti, studi e testi la prima sezione sono contributi appunto che vengono fuori da convegni da insomma situazioni seminaristiche mentre negli studi vengono appunto raccolti o monografie o comunque studi che sono inerenti alla linea tematica della rivista e infine la sezione testi speriamo di pubblicare presto e vi invito a seguire i nostri canali social nei prossimi giorni che ci saranno delle novità speriamo di pubblicare dei testi appunto delle delle opere o inedite oppure del ristampe di testi fondamentali per gli studi visuali e la letteratura continuo a ringraziare ringrazio anche Giovanna Santaera per tutto il lavoro che ha fatto per le domande e tutti quelli che hanno voluto partecipare e alla prossima grazie 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 a tutti